Molto spesso all'interno delle domus romane i pavimenti erano ornati da mosaici e questi mosaici potevano anche rappresentare, come in questo caso, delle scene con alcuni animali tipici della fauna e anche circondati dalla flora lacustre. Al centro di questo mosaico, che si trovava al centro della sala, vediamo la rappresentazione di due grandi anatidi, molto probabilmente due alzavole. In alto a destra probabilmente uno svaso, in basso a destra è presente un tordo e alla nostra sinistra, davanti alle due alzavole, intravediamo un altro piccolo uccello che potrebbe essere una gazza. Tutto questo si trovava probabilmente in un ambiente di triclinium, c'è la sala dove si pranzava.